Musica Venerdì 28 luglio, San Nazario, è il 209esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 156 al termine. Il sole sorge alle 5.50 e tramonta alle 20.44, la luna si leva alle 17.05 e tramonta a mezzanotte e 48. Sembra che in questo giorno sia rientrata a Venezia la trionfale spedizione comandata dal doge Pietro Orseolo II, che d'ora in avanti si dichiarerà anche duca di Dalmazia. Le previsioni per domani. Cielo sulle zone pianeggianti da poco a parzialmente nuvoloso, su quelle montane da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso, specie dal pomeriggio sulle zone montane e pedemontane saranno probabili alcune precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Temperature in contenuto aumento. Musica 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 Musica